La tragica scomparsa del 19enne Denis Vidao, morto a seguito dell'impatto tra la moto che lui stesso guidava e un'automobile, lungo strada nuova però piccina, ha toccato in molti a Trieste, poi la dinamica dell'incidente e poi la tristezza di una giovane vita che si spezza. Sui social si ricorrono messaggi di condoglianze, sul sito internet della Feder Cannottaggio regionale è riportato un messaggio in memoria del ragazzo. Una di quelle notizie delle quali non si vorrebbe mai scrivere. Questa notte se n'è andato un giovane cannottiere, Denis Vidao, 19 anni, ex atleta dell'Adria, ha perso la vita in un incidente stradale a bordo della sua moto scontrandosi con un'auto sulla strada nuova però piccina nei soborghi di Trieste. Alla famiglia di Denis vadano le sincere condoglianze da parte dell'intera famiglia del Cannottaggio regionale. Messaggio che in altre forme viene riportato anche da diverse realtà del Cannottaggio locale ma anche ai tanti amici, i colleghi, la circoscrizione. Riguardo la dinamica dell'incidente sono in corsi i rilievi attraverso quanto raccolto sul posto e la visione di alcune immagini catturate dai sistemi video della zona. L'impatto è stato molto violento. Denis procedeva lungo strada nuova per Oppicina in direzione Trieste dopo aver finito il turno di lavoro al Caffevatta Oppicina. Lo schianto è avvenuto proprio nel tratto di strada fra l'obelisco e l'incrocio con salita a Conconello. Dai primi rilievi sembra che il mezzo a due ruote sul quale viaggiava il 19enne al momento dell'impatto si trovasse nella corsia opposta, quella sulla quale procedeva l'auto guidata da una 57enne oggetto del violento scontro. Non sono note le cause di questa uscita di corsia. Un ostacolo? Una distrazione? Uno sbandamento? Al vaglio delle forze dell'ordine ci sono diversi elementi, uno di questi la velocità dei due veicoli ancora da appurare.